Buongiorno a tutti, sono Yolanda Pensa dell'Ecomusseo delle Grigne e appunto stiamo collaborando con Raul Del Santo, la rete degli Ecomusei, ma anche con Wikimedia Italia. Credo che Marta Rosio sia presente oggi ed è presente Lorenzo Stucchi, anche lui socio di Wikimedia Italia, ma anche coordinatore di OpenStreetMap per la Lombardia. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di fornire degli strumenti pratici collegati al sapere libero, alle licenze libere e a degli strumenti che possono essere utili per gli Ecomusei. Abbiamo programmato una serie di incontri, questo è il primo e durante il mese di giugno, tutti i giovedì dalle 2 alle 3, ci saranno appunto degli altri incontri tenuti da Lorenzo Stucchi e da Marta Rosio. L'obiettivo di oggi è quello di spiegarvi, di darvi delle informazioni più precise sulle licenze libere e i progetti collaborativi online. Quindi lo scopo di questa mia presentazione è quello di avviare un po' il lavoro, darvi un'idea di qual è il contesto degli Ecomusei e per quale motivo le licenze libere e i progetti collaborativi online possono essere rilevanti. dare qualche informazione pratica su come gli Ecomusei possono utilizzare le licenze libere e le cose semplici che possono fare per rendere appunto funzionante questo sistema, spiegare un po' a cosa servono le licenze libere e come funzionano e infine anche accennare al tema dei monumenti. Vi chiedo la gentilezza se potete di chiudere il microfono che rende più semplice non avere rumore di sottofondo, grazie mille. Allora, cominciamo dal contesto degli Ecomusei. Una delle cose nuove dei requisiti degli Ecomusei è il fatto che è stato esplicitamente inserito all'interno dei requisiti per la Regione Lombardia, quindi per gli Ecomusei che vogliono essere riconosciuti dalla Regione Lombardia, il fatto di utilizzare una licenza aperta sui contenuti principali degli Ecomusei. Questo è all'interno del requisito minimo 14 sulla comunicazione, che proprio esplicitamente dice di utilizzare licenze aperte. Un secondo requisito collegato a questo tema delle licenze libere è quello relativo al patrimonio. Gli Ecomusei hanno l'obbligo di archiviare documentazione, di preparare della documentazione, di lavorare insieme alle comunità per produrre della documentazione e tra i vari temi che devono coprire gli Ecomusei c'è il patrimonio, c'è la mappatura, ci sono dei dati georeferenziati e ci sono degli itinerari. Quindi, almeno per quanto riguarda gli Ecomusei Lombardi, ma questi possono essere strumenti utili per tutti gli Ecomusei, per tutte le istituzioni, diciamo che è richiesto che si utilizzino licenze libere ed è richiesto che si producano dei dati e dei contenuti. Ora, cosa significa questo in pratica? Ho voluto in questa presentazione cominciare dalla fine, quindi vi dico subito quelle che secondo me sono le 5 cose più importanti da fare per riuscire a utilizzare le licenze libere. Allora, la prima cosa da fare è una ufficializzazione della decisione, quindi il primo passaggio che è utile e importante che gli Ecomusei facciano è aderire in modo formale all'uso delle licenze libere. Per fare questo basta una lettera del coordinatore degli Ecomusei, oppure magari è utile una delibera, magari può avere senso inserire questo tema all'interno dei regolamenti degli Ecomusei, però è necessario che ci sia comunque una decisione formale, possibilmente il più condivisa possibile con le varie parti che costituiscono l'Ecomuseo e che dichiari l'uso di licenze libere, poi entrerò nel merito di quali licenze. All'interno di questa adesione ho già inserito comunque l'attenzione verso autorizzare le fotografie dei monumenti e anche su questo poi ritornerò successivamente. Il secondo atto, la seconda azione importante che gli Ecomusei possono fare è abbastanza semplice, anche se può sembrare magari complicata vista così, è quello di inserire all'interno del proprio sito la licenza libera. Inserire, qui ho messo questa stringa di codice che si può adattare mettendo il link dell'Ecomuseo e il nome dell'Ecomuseo, che sostanzialmente dichiara a tutti in che modo l'Ecomuseo aderisce a questa scelta di utilizzare le licenze libere e lo rende esplicito sul suo sito. Anche su questo poi entrerò nel merito successivamente. La terza cosa che deve fare un Ecomuseo e che ha veramente senso fare è annunciare quello che sta facendo, cioè dire a tutti che ha deciso di scegliere le licenze libere e che le sta utilizzando. Questo perché è un'informazione importante, perché altre comunità possono utilizzare questo materiale, ma anche perché è un'informazione che più è condivisa, più effettivamente avrà un impatto positivo. Quindi qui ho messo una specie di modello di lettera, email, notizia, un'informazione che può essere messa sul sito oppure che può essere diffusa attraverso i propri canali. Un quarto passaggio è quello legato ai dati. Gli Ecomusei fanno delle cose, producono delle pubblicazioni, creano degli itinerari, raccolgono materiale, quindi migliorare la qualità dei dati e dei contenuti che gli Ecomusei raccolgono e producono è importante. L'obiettivo è quello di creare dei dati e dei contenuti che siano facili da trovare, e qui poi c'è tutta una serie di passaggi che possono essere fatti per renderli sempre più facili da trovare, sempre più accessibili. Un secondo passaggio è quello di renderli facili da citare, cioè fare in modo che chiunque possa attribuire correttamente il materiale agli autori e alla fonte dell'Ecomuseo. E infine facili da usare e riusare, quindi in particolare degli dati FAIR, quindi dei dati che siano strutturati in un modo specifico per renderli facili da utilizzare, ma anche l'inserimento della licenza libera, il fatto di utilizzare dei formati aperti, sono dei modi per rendere questi dati non soltanto a disposizione delle persone, ma anche più facili da usare dalle persone. L'ultimo passaggio che ho inserito in questo elenco di cose da fare è la collaborazione con OpenStreetMap. Siccome gli Ecomusei lavorano su dei dati geografici, dei dati georeferenziati per il patrimonio che devono valorizzare, quindi identificando il patrimonio, ma anche per la creazione di itinerari, o comunque per la creazione di contenuti che hanno un collegamento profondo e forte con il territorio, OpenStreetMap è un posto ideale dove inserire i dati, ma ancora di più è un posto ideale perché proprio come l'approccio degli Ecomusei è quello di lavorare con la comunità, è quello di essere delle istituzioni collaborative, OpenStreetMap è un progetto collaborativo e quindi permette veramente di lavorare con le comunità e di utilizzare al meglio questa procedura di coprogettazione e di cocreazione della mappatura del territorio che può essere proprio fatta con uno strumento già esistente. Ora questo è dove vogliamo arrivare, sono le cinque cose che può essere bello, importante e utile che gli Ecomusei facciano per utilizzare le licenze libere e per sfruttare anche questi strumenti esistenti che sono già a disposizione. Ma perché le licenze libere? E qui entriamo un po' più nel merito delle motivazioni che stanno alla base di questa scelta, di questa direzione. Allora una licenza libera sostanzialmente è uno strumento che permette all'Ecomuseo di aprirsi. Attualmente produciamo tanti materiali, produciamo contenuti, libri, testi, immagini e crediamo che questi materiali siano già a disposizione di tutti. In realtà lo sono, ma non lo sono legalmente. Cioè le persone possono magari visualizzarli, ma non possono riutilizzarli, non possono collaborare a cocrearli, non possono tradurli, non possono correggerli, non possono fare tante cose che invece è molto interessante poter lasciare le persone fare. Infatti le licenze libere permettono non soltanto di accedere ai materiali, ma permettono il riuso, permettono il fatto che la modifica di questi contenuti, permettono un uso anche commerciale e poi permettono tutta una serie di collaborazioni con questi progetti collaborativi online. Quindi facilitano la collaborazione, permettono la collaborazione con Wikipedia, con OpenStreetMap, con Wikidata, Wikimedia Commons, Wikiloft Monument, quindi grandi progetti collaborativi esistenti, ma anche la possibilità per un'azienda di utilizzare materiali dell'ecomuseo per creare un'app, permettono a un esercente, magari un produttore anche di prodotti tipici locali di utilizzare delle immagini che ha raccolto l'ecomuseo o una mappa di quelli che sono i siti. Insomma permettono tutta una serie di altre cose, magari anche impreviste, magari anche che non avevamo immaginato inizialmente. Inoltre le licenze libere hanno anche il vantaggio di collegare gli ecomusei a tutto un grande movimento contemporaneo. Si parla spesso di Open Government, cioè l'apertura dei dati pubblici, quindi Open Data, Open Access, Open Science per quanto riguarda i contenuti delle università, Open Knowledge, Open Content, sono tutte delle direzioni in cui il mondo sta sempre più andando. E quindi l'adesione degli ecomusei all'uso delle licenze libere, quindi la partecipazione attraverso l'uso delle licenze libere, permette a tutti gli ecomusei di far parte di questo movimento che sta mostrando quanto sia interessante e utile allargare l'apertura dei contenuti per dare maggiore impatto alle azioni che fanno le istituzioni. Uno dei vantaggi diciamo più visibili è la possibilità di mettere insieme contenuti diversi, quindi la possibilità di co-creare, collaborare e creare delle cose nuove a partire del materiale di tante persone diverse. Può essere basato sulle immagini, può essere l'editing di video, può essere audio, può essere dei dati strutturati su dei singoli siti del nostro patrimonio, cioè ci sono tanti materiali che possono essere usati per creare delle cose condivise e nuove. E questo è un po' un esempio che avevamo creato utilizzando dei materiali di archivi rilasciati sui progetti di Wikimedia, proprio per dare un po' un senso di questo collage che è possibile attraverso l'apertura dei contenuti. Gli enti, li citavo già prima, i progetti liberi che utilizzano materiale anche di tante fonti diversi e che producono sapere libero sono i progetti Wikimedia. All'interno dei progetti Wikimedia ho messo anche OpenStreetMap, che non è un progetto Wikimedia ma che fa parte un po' dell'ecosistema di questo mondo. Sono tutti dei progetti che sono rilasciati con licenze libere e si basano proprio, la possibilità che danno di collaborare si basa proprio su queste licenze. Prendendo per esempio Wikipedia, è proprio la licenza che permette la collaborazione. Infatti tutti i contenuti, le pagine Wikipedia sono rilasciate con una licenza Creative Commons attribuzione e condividi allo stesso modo, che poi tra breve ne parleremo. E questa licenza è quella che permette di modificare i contenuti di Wikipedia e poi richiede a chi modifica i contenuti di rilasciare a sua volta i contenuti con una licenza libera. Quindi si aprono i contenuti e tutto quello che viene prodotto e modificato è autorizzato grazie a questa licenza. Un altro progetto collaborativo aperto è proprio OpenStreetMap, di cui si parlerà poi anche nei prossimi incontri e anche in questo caso è la licenza libera che utilizza OpenStreetMap che permette modifica e poi la creazione di nuovi contenuti direttamente dagli utenti, accettando sempre di mantenere aperti i contenuti prodotti. Sempre grazie a licenze libere e all'apertura dei contenuti si può partecipare a Vicky Rose Monument, che è un grandissimo concorso fotografico che ha prodotto nel corso degli anni, non ho trovato una mappa che arriva fino al 2020, ma è attivo anche quest'anno, ha prodotto delle straordinarie immagini di monumenti di tutto il mondo e ha permesso anche alle istituzioni culturali, ma a tutti, di beneficiare di una grandissima produzione di immagini e contenute fatte da tutti gli utenti del mondo che hanno documentato il patrimonio culturale di tutti i luoghi, di tutti i territori. Tra l'altro un'attività che non è semplice da fare, perché mappare tutti i beni culturali e produrre delle immagini libere, disponibili per tutti e ovviamente che possono andare poi ad arricchire Wikipedia, ma non solo, perché la licenza permette poi di utilizzare questo materiale ovunque, è una cosa che è difficile da fare anche dai governi, per cui il fatto di avere il privilegio di avere volontari e persone che si sono impegnate nel fare questo lavoro è un grandissimo vantaggio per tutti. Altri progetti che usano licenze libere e che hanno utilizzato contenuti aperti sono un'iniziativa, quella di Paesaggi Sostenibili del Cibo, che cito in questa presentazione e che anche lì è interessante collegare a questo sforzo di apertura dei contenuti. Ma come funzionano le licenze? Allora ho iniziato appunto dicendo che vanno utilizzate, ma che cosa sono? Sostanzialmente le licenze sono lo strumento che ci permette di aprire i contenuti, quindi per dire che dei dati, dei testi, delle immagini, degli appunti, del materiale educativo, ma anche dei video, degli audio, quindi del materiale multimediale, per dire che è aperto, bisogna utilizzare le licenze. Di solito appaiono in modo abbastanza semplice, questo è un esempio di una licenza, c'è un logo, c'è un'attribuzione, quindi c'è scritto come si vuole che quel materiale sia citato, e poi c'è un link alla licenza. In realtà poi a guardare meglio questa licenza, si tratta in realtà di tre cose che fa questa licenza, cioè è un'autorizzazione che è leggibile dalle persone, cioè attraverso il link alla licenza, chiunque può vedere che cosa è autorizzato a fare con quella licenza, e in questo caso specifico è una licenza Creative Commons che autorizza tutti gli usi, semplicemente chiedendo che venga citato l'autore, quindi che venga citata la fonte, si dice attribuzione, e che se una persona utilizza quel materiale, deve a sua volta renderlo disponibile con la stessa licenza, è il concetto di condividi allo stesso modo. Quindi chiunque può sapere che può utilizzarlo in tutti i modi, commerciale e non commerciale, ma con queste due clausole, quindi ricordarsi di citare l'autore e condividere allo stesso modo. Un'altra cosa che fa questa licenza è essere leggibile e comprensibile dai computer e delle macchine, per cui in realtà non si inserisce così la licenza, ma si inserisce, se si tratta di un sito, si inserisce una stringa di codice, come quella che vi ho mostrato all'inizio, e se è una pubblicazione, possibilmente si inserisce la licenza anche nei metadati. Infine, l'ultima cosa che fa questa licenza è avere un valore legale, vuol dire che quando io metto questa licenza, non faccio un accordo con una singola persona, non sto dicendo come si fa normalmente nei contratti, tu hai il permesso di fare questa cosa, io lo sto dicendo a tutto il mondo, cioè sto facendo un accordo tra me e il resto del mondo, dicendo chiunque, qualsiasi persona, istituzione, può utilizzare il mio materiale semplicemente con queste due condizioni, per cui è molto più semplice utilizzare il materiale di altri. Inoltre, il fatto che questa licenza sia comprensibile dalle macchine e dai computer, fa sì che rientra poi nei motori di ricerca, cioè è possibile fare una ricerca per contenuti, trovare delle immagini che sono disponibili, che sono libere e che hanno una determinata licenza, per cui è molto più facile rendere disponibile questo materiale veramente al mondo. Questa struttura della licenza si chiama una struttura a tre livelli, in pratica è molto importante ricordarsi che la validità della licenza è proprio basata sul fatto che deve essere comprensibile alle persone, alle macchine e deve avere il valore legale, quindi principalmente deve essere collegata a un link alla licenza. Ora, non tutte le licenze sono delle licenze libere e aperte nel senso più pieno del termine. Adesso ho inserito qui delle licenze Creative Commons, che sono tra le più usate al mondo, soprattutto per testi e contenuti, anche sui dati si utilizza stesso la licenza alla CC0, quindi sono delle licenze molto comune, sono facili da usare, come vi spiegavo prima, con questa stringa di codice, e soltanto queste tre licenze sono quelle che sono considerate veramente aperte, perché noi per aprire i nostri contenuti vogliamo che le persone li possano usare, quindi li possano modificare, e li possano anche utilizzare per scopi commerciali. Per cui non vogliamo che siano limitate queste operazioni, non vogliamo che siano delle licenze che non permettano lo scopo commerciale o che non permettano la modifica. Per cui queste tre licenze sono quelle che noi vogliamo utilizzare. Io personalmente raccomando due licenze in particolare, la CC0, che è praticamente un pubblico domenio, è un'apertura completa per quanto riguarda i dati, perché rende i nostri dati molto più facili da utilizzare in altri repository, quindi in altre banche dati, ed è la licenza che utilizza Wikidata, che sta diventando il più grande repository di dati aperti al mondo, per cui vale la pena che i nostri dati beneficiano anche dell'essere accessibili su queste banche dati. E la licenza invece che consiglio per test, immagini, video e audio, è la Creative Commons, attribuzione e condividere lo stesso modo. che è un'attribuzione più restrittiva, perché richiede lo share alike, che è questo copyleft, questa idea che è come se fosse un virus. Io voglio usare una licenza che infetta il sistema, per cui quando altri useranno il mio materiale, continueranno a mantenerlo libero, e quindi aiuterà questa licenza con il cosiddetto share alike, condividere lo stesso modo copyleft, questa licenza fa sì che le opere derivate, quindi tutto quello che viene fatto con il mio materiale, rimane aperto, e quindi si continua ad aumentare il numero di contenuti liberi e disponibili nel mondo. Ora, la questione delle licenze, e quindi la possibilità di utilizzare una licenza libera, è legata a chi detiene i diritti d'autore. Ora, diciamo che la norma è che chi ha prodotto qualcosa, ovviamente deve essere una cosa originale, ma eviterei di distinguere tra cose che sono opere originali, quindi che hanno il diritto d'autore meno, cioè può essere la cosa più semplice dire, tutto quello che viene prodotto da una persona gli appartiene sostanzialmente. Ora, questo è vero nella maggioranza delle volte. Quando un vostro volontario fa delle fotografie e ve le consegna, quel materiale appartiene a lui, non appartiene all'ecomuseo. Quando invece un dipendente, una persona che ha un contratto come collaboratore dipendente dell'ecomuseo, produce delle foto o dei testi, quel materiale di solito appartiene all'ente. Anche gli enti pubblici hanno un maggiore diritto sui contenuti che commissionano o producono, per cui di solito una cosa prodotta da un comune appartiene al comune. Quindi gli enti hanno di solito un diritto. A volte gli enti finanziatori chiedono che i risultati del progetto siano aperti o meno, quindi può avere un impatto sul tipo di autorizzazioni che possono essere fatte. Attenzione anche alle case editrici. A volte quando si pubblica qualcosa, la casa editrice fa firmare un accordo per cui si cedono tutti i diritti esclusivi. Ecco, non è detto che bisogna farlo, cioè si può scrivere alla casa editrice e si può chiedere di anche non cedere tutti i diritti esclusivi, ma dare tutti i diritti non esclusivi anche alla casa editrice. Quindi si possono trovare delle soluzioni che non richiedano l'accessione dei diritti. L'ultimo caso, appunto, non tutto è coperto da copyright, come accennavo all'inizio. quello che non è un... 70 anni dopo la morte di un autore decade il diritto per cui si entra nel pubblico dominio, quindi se avete delle immagini storiche, delle pubblicazioni storiche, quindi degli archivi che sono più antichi e l'autore è morto da oltre 70 anni, quel materiale è in pubblico dominio, quindi potete utilizzarlo. Altrimenti bisogna chiedere delle autorizzazioni. Poi entro un attimo nel merito delle autorizzazioni. Allora, giusto alcune domande che spesso mi vengono fatte. Utilizzare le licenze libere non costa niente, non bisogna registrarsi, non bisogna pagare qualcosa Creative Commons. Semplicemente si mette questa dicitura e si è riusciti a rilasciare i propri contenuti con una licenza libera. Un'altra cosa che spesso mi viene chiesta è che un ente no profit non dovrebbe usare una licenza non commerciale. Ecco, bisogna fare attenzione a questa cosa. No, le attività commerciali in realtà non c'entrano con lo scopo di lucro di un ente. Essere un ente senza scopo di lucro non vuol dire che non si possano fare delle attività commerciali. Considerate che un uso commerciale, uno scopo commerciale può essere anche quello di utilizzare dei materiali per una app a pagamento oppure per un sito internet che ha della pubblicità, oppure anche un libro, avendo un prezzo, o una rivista che ha un prezzo, sono un uso commerciale di materiali. Anche un'azienda che vuole utilizzare appunto il vostro materiale per un volantino pubblicitario è un uso commerciale. Per cui il fatto di permettere l'uso commerciale è in realtà tra l'altro un tipo di attenzione che gli Ecomusei dovrebbero avere proprio perché noi come Ecomusei abbiamo anche voglia che il nostro territorio benefici delle nostre attività anche per attività commerciali e anche per uno sviluppo di business, di attività che possono essere a beneficio di tutto il territorio. Quindi il fatto che le nostre attività più culturali vadano comunque ad avere un impatto positivo sulle produzioni anche di prodotti tipici oppure sulla creazione di nuovi posti di lavoro o sulla qualità della vita è una cosa che gli Ecomusei capiscono molto bene in questa loro visione anche più ampia dei benefici per un territorio. Per cui è molto importante ed è poi una delle caratteristiche delle licenze veramente aperte quello di permettere l'uso commerciale dei materiali, lo scopo commerciale. Un altro consiglio fondamentale è quello di cominciare dalle situazioni facili. Qualsiasi Ecomuseo ha materiale che non si sa da dove arriva, è complicato definire. Non partite da quello. Cominciate rendendo disponibile il vostro sito internet, cominciate dal materiale che sapete aver prodotto voi, cominciato anche da magari delle immagini, dei contenuti che vi sono stati dati da volontari che potete contattare e qui potete chiedere l'autorizzazione, meglio un'autorizzazione scritta, meglio un'email perché questo materiale sia rilasciato con licenza libero. Quindi cominciate dalle cose semplici che è il modo migliore poi per iniziare e poi anche successivamente anche le procedure diventeranno più attente magari anche quando raccoglierete il materiale da volontari o durante un evento sarà più facile che vi venga in mente appunto di chiedere l'autorizzazione e di specificare come vengono inseriti poi i materiali resi disponibili. Quindi la raccomandazione è quella di mettere sempre la licenza perché se non c'è la licenza le persone non sanno come possono usare questo materiale quindi è la licenza che dice a tutti come si può usarlo. Ho aggiunto qualche slide un pochino più tecnica in cui ci sono appunto le indicazioni sulla stringa di codice raccomando appunto l'uso anche dei metadati quando inserite la licenza e poi trovate qui anche il link se volete seguire il percorso guidato che propone Creative Commons per mettere la licenza. In realtà questo è appunto se volete esplorare un po' di più anche come inserire la licenza oppure se volete utilizzare modelli diversi. Però appunto la stringa di codice che ho messo all'inizio che avete visto è un modello abbastanza semplice che potete copiare e incollare. Ecco un ultimo tema chiave per capire un po' dove stiamo andando è la questione dei monumenti. All'inizio ho menzionato che nelle autorizzazioni da chiedere alle Ecomusei c'è quella di permettere che possano essere fotografati i beni culturali. Noi come Ecomusei ci occupiamo di patrimonio culturale a volte abbiamo possediamo un patrimonio culturale altre volte abbiamo degli accordi con gli altri enti quindi potremo eventualmente collaborare con altri enti per le autorizzazioni però c'è un problema sulle autorizzazioni dei monumenti. Allora vi spiego un attimo questa questione. In pratica una persona può credere che va davanti a un monumento fa una fotografia del monumento e può caricare questa immagine su Wikipedia su Wikimedia Commons quindi la banca dati multimediale di Wikipedia e rendere questa immagine disponibile a tutti. In realtà non è così semplice proprio perché Wikipedia autorizza anche lo scopo commerciale dei propri contenuti cioè quando si fa una fotografia per Wikipedia si fa una fotografia per tutto il mondo per tutte le persone che possono usare questi contenuti come vogliono anche per scopi commerciali con questa clausola di citare la fonte quindi dire l'autore e la fonte e rilasciare il materiale sempre con la stessa licenza libera quindi mantenendolo aperto. Quindi noi possiamo immaginare che un percorso sia così lineare in realtà il percorso è decisamente più complesso. Allora il primo problema affinché si possa fare una fotografia di un monumento è avere una lista dei beni culturali quindi sapere che quello è un monumento riconosciuto e noi come Ecomusei facciamo delle liste di beni culturali quindi partecipiamo a questo lavoro di database e se lo rendiamo disponibile quindi se lo diamo diamo accesso ai nostri dati questa lista dei nostri beni culturali diventa effettivamente pienamente accessibile e quindi è una cosa già in cui possiamo fornire indicazioni. Un secondo elemento per poter caricare o comunque contribuire correttamente a fornire delle immagini per Wikimedia per Wikimedia Commons e per Wikipedia dei beni culturali è quella di avere una georeferenziazione del bene e anche in questo gli Ecomusei quando creano i loro elenchi di beni culturali recuperando l'indirizzo e a volte recuperando proprio le coordinate georeferenziate anche qui possono fornire delle informazioni. Poi bisogna avere l'autorizzazione del proprietario del bene per poter fare delle fotografie soprattutto per gli interni bisogna avere l'autorizzazione dell'artista se si tratta di un'opera di arte pubblica per esempio di un'opera d'arte e dell'architetto se vogliamo fare una fotografia di un bene di cui ancora ci sono diritti di artisti architetti collegati dobbiamo chiedere l'autorizzazione della sovraintendenza o dell'ente a cui appartiene quel bene e che lo gestisce quindi per esempio noi come Ecomuseo se possediamo dei beni culturali o se ne abbiamo una gestione quindi siamo noi i referenti per quel bene culturale possiamo fornire l'autorizzazione ma se all'interno del nostro patrimonio c'è per esempio una chiesa dobbiamo chiedere l'autorizzazione al parroco perché quella fotografia possa essere creata quindi una volta che abbiamo tutte queste fotografie effettivamente la fotografia si può caricare e rendere disponibile questo perché collegate alle immagini dei monumenti ci sono tantissimi diritti diversi allora c'è il diritto della persona che fa la fotografia ovviamente quindi il fotografo quando carica la sua immagine su Wikimedia Commons quindi sui progetti Wikimedia dà l'autorizzazione e in quel momento rende disponibile quell'immagine con la licenza Creative Commons attribuzione e condivide allo stesso modo poi ci sono i diritti di chi possiede quel bene che quindi deve permettere di fare l'autorizzazione ovviamente se uno deve entrare deve muoversi deve poter fotografare adesso con i musei è diventato più semplice ma chiaramente se si tratta di una villa di una chiesa serve l'autorizzazione un altro diritto è quello legato a chi ha creato quell'opera quindi architetti artisti mantengono i loro diritti fino a 70 anni dopo la loro morte salvo se c'è la libertà di panorama freedom of panorama ma non è il caso dell'Italia per cui serve un'autorizzazione e le autorizzazioni servono delle autorizzazioni scritte perché quell'immagine sia effettivamente accessibile a tutti poi c'è il diritto legato alla legislazione dei beni culturali non è un diritto d'autore ma è proprio la legislazione in alcuni paesi che vuole proteggere i beni culturali quindi dice potete farne un uso personale ma non potete fare fotografie con scopo commerciale a meno che non ci sia l'autorizzazione di chi sovraintende il bene chi gestisce il bene può essere la sovraintendenza può essere la regione la provincia può essere il parroco può essere il privato a cui appartiene il bene però l'uso commerciale richiede un'autorizzazione questo vale in Italia vale in alcuni paesi tendenzialmente in paesi del Mediterraneo tendono ad avere una legislazione più restrittiva sulla protezione dei beni culturali altri paesi per esempio non hanno queste clausole questo livello di complessità per le fotografie commerciali ma noi l'abbiamo e infine l'ultimo diritto di cui bisogna tenere presente è una fotografia in cui ci sono delle persone bisogna sempre fare attenzione questo lo menziono anche perché spesso nelle attività degli ecomusei noi facciamo delle fotografie degli eventi o dei nostri progetti ci sono delle persone è bene che queste persone siano d'accordo che vengono fotografate solitamente un evento pubblico permette che si facciano delle fotografie cioè di solito partecipare a un evento pubblico sostanzialmente si può immaginare che ci sia un'autorizzazione implicita ma è possibile che le persone non siano d'accordo quindi bisogna tenere presente questo e bisogna fare molta attenzione con le fotografie di minori quindi quando si tratta di bambini o anche se sono bambini orfani quindi in quel caso ci vuole proprio l'autorizzazione del giudice per cui serve un'autorizzazione scritta da parte dei genitori quindi attenzione sempre quando fate delle fotografie di bambini in particolare quindi attività con i ragazzi laboratori eccetera ad avere queste autorizzazioni queste liberatorie per cui la complessità di fare delle fotografie a un monumento è abbastanza ricca come penso dia un'idea questa sintesi ed è per questo che ci serve la collaborazione degli ecomusei serve la collaborazione degli ecomusei per poter fare delle fotografie che hanno poi una grande disseminazione questo era il riferimento al fatto che appunto l'Italia non ha frinomo panorama quindi l'autorizzazione di default per le immagini quindi in conclusione allora tornando alla lista delle cinque cose da fare in pratica la prima come dicevo è dare l'autorizzazione in questa bozza di autorizzazione in questo modello di autorizzazione ho inserito la licenza creative commons attribuzione condividi allo stesso modo per i contenuti e per i dati invece la licenza libera zero la CC zero si chiama creative commons zero inoltre ho inserito anche qua un'autorizzazione a fare le fotografie del patrimonio in realtà poi per la partecipazione di Vicky Lossmonument e questo Marta Rosio ne parlerà più diffusamente è bene fornire un elenco dei beni culturali e probabilmente se gli ecomusei hanno voglia di partecipare a questo evento strabiliante e permettere alle persone di fare fotografie del loro patrimonio che credo che sia profondamente iscritto comunque alla nostra missione il nostro modo di operare serve probabilmente anche raccogliere delle autorizzazioni da altri enti quindi in particolare la parrocchia il comune magari la provincia o dei privati che hanno dei luoghi di particolare interesse di particolare valore la seconda attività come dicevo all'inizio è quella di inserire la licenza sul vostro sito internet il vantaggio di mettere la licenza sul vostro sito internet è che sicuramente i contenuti che avete messo sul sito sono dei contenuti che non hanno problemi di privacy perché se sono già pubblici se sono già online vuol dire che sono comunque dei contenuti aperti o disponibili di cui non avete timore per cui mettere la licenza li rende realmente aperti e utilizzabili da altri una cortezza potete specificare che salvo diversamente indicato i contenuti sono liberi magari se si tratta di cose che non appartengono esattamente a voi oppure cose in cui sarebbe bene magari chiedere l'autorizzazione potete anche specificare per esempio che solo i testi sono aperti potrebbe essere magari una prima fase se ancora non avete discusso negoziato non avete l'autorizzazione degli aventi diritto la terza cosa da fare come vi dicevo è quella di ditelo tutti questa è una cosa comunque bellissima cioè il fatto di utilizzare licenze libere il fatto di mostrare che si rende disponibile la propria documentazione a tutti il fatto che anche le comunità online possano utilizzare questo materiale è una cosa senza altro da far sapere per cui considerate questo un passaggio che non vi costa niente diciamo da un punto di vista monetario non dovete pagare per fare questa operazione salvo il tempo che ovviamente serve dedicare però che rende comunque un effetto molto importante e che ha una grande utilità per tante persone il quarta azione è quella di fare attenzione poi ai vostri dati in futuro ai vostri contenuti uno dei il vostro sito internet comunque che è previsto che un ecomuseo debba avere è un posto senz'altro utile dove archiviare dove mettere la vostra documentazione ma rendere disponibile questa documentazione in altri luoghi su altri siti su altri repository è sempre una buona idea la ridondanza cioè mettere i contenuti in tanti posti diversi è sempre considerata una cosa buona con i contenuti digitali per cui quello è sempre una cosa saggia anche fare in modo che questi contenuti siano appunto caricati su Wikimedia Commons le fotografie i dati su OpenStreetMap rende semplicemente i vostri dati e le vostre le vostre conoscenze e i vostri materiali più facili da trovare dove c'è già tanta gente perché questi progetti sono già molto usati quindi tutto quello che aiuta a rendere più facilmente trovabili questo materiale è sempre una caratteristica importante per aprire i dati una seconda caratteristica è quella di siate chiari su come volete che questi dati queste informazioni siano citate solitamente si mette l'autore magari il nome dell'ecomuseo come ente che possiede questo materiale o che l'ha prodotto l'anno e la licenza in modo tale che voi rendete facile il riuso di quel materiale e facile anche l'attribuzione di questo materiale ed è bene sempre ricordarsi che citare comunque gli autori è una è una pratica importante sia perché citare gli autori evita di fare plagio ma anche perché è un diritto morale quello di riconoscere il lavoro degli altri per cui è bene anche considerarla una pratica che noi stessi dobbiamo fare quando utilizziamo materiale di altri ed è una pratica anche intelligente per valorizzare il lavoro dei volontari per cui citarli avere il nome della persona che ha realizzato quel lavoro o i partecipanti che sono stati coinvolti è sempre una cosa bella e importante per dare valore alla partecipazione infine tutto quello che rende più facile utilizzare quei materiali è fondamentale per renderli realmente aperti per cui utilizzare la licenza che dice chiaramente a tutti che cosa si può fare con quel materiale se si tratta di software o se si tratta di progetti particolari inserire anche delle istruzioni per l'uso privilegiare i formati aperti quindi è meglio rendere disponibili delle delle strutture dei dati strutturati piuttosto che un pdf con un elenco di dati quindi più i formati sono facilmente utilizzabili e sono aperti più è facile per le persone riutilizzarli e scaricarli quindi fornire dei dati meglio una tabella excel di un pdf meglio un csv ma questo appunto anche le presentazioni successive su open street map che fa anche caricamenti di dati sicuramente possono darvi delle informazioni più pratiche su come preparare questi dati l'obiettivo è quello di permettere ad altri di modificarli e poi appunto renderli disponibili per scopi commerciali e non infine l'ultima l'ultima cosa importante è la partecipazione a open street map non ho messo qui la partecipazione a wikipedia e ai progetti a wikimedia quindi wikilofts monument e a tutte le altre banche dati e spazi con i quali si può collaborare con i progetti wikimedia giusto perché poi sarà presentato successivamente ma la collaborazione con le comunità online e rendere disponibili i contenuti in banche dati che li rendono poi a loro volta aperti ad altri è un sistema molto efficiente per potenziare proprio il collegamento tra quello che facciamo e il più vasto mondo per come un interesse che può essere degli ecomusei concludo con l'ecomuseo delle grigne che è l'ecomuseo di cui sono coordinatrice che è da tanti anni che utilizza licenze libere in realtà è l'associazione amici del museo delle grignollos che dal 2006 l'associazione è l'ente gestore dell'ecomuseo ha scelto di usare licenze libere è stato premiato per questo da wikimedia italia per il sapere libero poi abbiamo organizzato il raduno mondiale di wikipedia wikimania nel 2016 quindi l'impegno dell'ecomuseo delle grigne è sempre stato su più fronti nel rendere disponibile il materiale e l'esperienza che abbiamo fatto è stata molto positiva anche il caricamento di documenti storici in cui dei volontari li hanno trascritti oppure l'aiuto che abbiamo ricevuto poi dai volontari nelle mappature ma anche nel produrre immagini quindi quello che abbiamo visto con l'ecomuseo e anche con con questo nostro lavoro che abbiamo fatto in collaborazione con tanti con le associazioni locali ma anche con tutti i partner non soltanto locali ma appunto ben più ampi dalla Lombardia della provincia ma anche d'Italia le associazioni wikimedia quindi questa possibilità di collaborare in modo più ampio e anche questa idea che è vero che noi ci occupiamo di un sapere locale ma il sapere locale non è un sapere piccolo è un sapere che fa parte del mondo e quindi sentire che quello che noi facciamo anche in un piccolo territorio è parte della conoscenza di tutti credo che sia uno spirito molto utile molto bello per quello che facciamo inoltre la collaborazione a livello internazionale potenzia le traduzioni potenzia anche il plurilinguismo e la partecipazione poi di persone che vengono da tutto il mondo e questo anche è un punto importante e utile per noi che ovviamente abbiamo magari delle risorse limitate ma che attraverso questi progetti aperti possiamo anche beneficiare di traduzioni e anche di collegamento con sapere in altre lingue grazie grazie mille Iolanda prima di lasciare so che qualcuno dei presenti ha qualche domanda da fare volevo appunto intanto ricordare che abbiamo in tanti copiato dalle cose delle griglie quindi questa buona pratica si è diffusa in Lombardia e non solo ovviamente negli Ecomusei Lombardi e il motivo proprio di questo corso è che appunto fa parte di un approfondimento che la rete degli Ecomusei di Lombardia sta compiendo su questi nuovi requisiti minimi per il riconoscimento degli Ecomusei Lombardi che sono stati approvati l'anno scorso da Regione Lombardia quindi tutti gli Ecomusei Lombardi non solo quelli che verranno in futuro riconosciuti dovranno comunque tutti attuare alcuni requisiti uno di questi è proprio pubblicare alcune tipologie di date ad esempio l'elenco del patrimonio le mappe eccetera in formato appunto libero e aperto e quindi è questo il motivo per cui appunto ci troviamo a trattare questo argomento la cosa interessante è che è un argomento che evidentemente interessa davvero a tante persone qui tra i presenti ho visto nella chat ci sono colleghi e amici un po' di tutta Italia che quindi voglio l'occasione nuovamente di salutare chi non avesse ancora scritto il suo nome e il nome e l'ente di appartenenza lo faccia attraverso la chat e credo che se Iolanda se a te va bene possiamo iniziare con qualche domanda a cominciare dal primo che si è prenotato che è Edo Bricchetti Edo sei in linea? sono qua voglio fare una domanda ciao Iolanda voglio fare una domanda Iolanda caso veramente pratico fatto senza licenze libri ecco museo apre una domanda con un comune che gli chiede di fare un percorso segnaletico il comune è tutto rumore ma spegnere il microfono mi pare ecco bravo ecco il comune realizza dei pannelli di metallo dei totem però per la storia del coronavirus non li mette sul posto perché evidentemente non si poteva il discorso che si è presentato però michevolmente ma che può dare uno spunto per riflessione è questo il comune dice no tu non utilizzi ecomuseo il percorso segnaletico perché lo vogliamo inaugurare noi e molti invece dell'ecomuseo siccome quel percorso l'avevo fatto io mi chiedevano materiale mi chiedevano quello che io ho scritto sul computer quindi la matrice di tutto io ho anche curato i cartelli ma i cartelli hanno un'impostazione diversa e mi sento dire che non posso allora io mi rivolgo un avvocato amico è un giudice quale che mi dice no tu non puoi utilizzare il cartello ma puoi utilizzare benissimo il tuo materiale perché sei tu l'autore e nessuno ti può togliere il diritto il primogenito del lavoro quindi era una riflessione che facevo vorrei però il conforto insomma della della tua opinione perché molti ecomusei si trovano costretti a barcamenarsi in questa realtà fosse stata usata la licenza libra anche con il comune probabilmente non ci sarebbero stati problemi giusto? allora dunque la licenza se fin dall'inizio si fosse deciso come rilasciare il materiale con licenza libera il vantaggio è quello che sarebbe stato molto più chiaro quindi tutti possono usare quel materiale fermo restando che va riconosciuto comunque l'attribuzione allora in quel caso se è un progetto bisogna capire anche il contributo originale quindi nel caso in cui appunto viene riconosciuto su questi testi l'autorialità il tuo contributo come autore quindi viene citato il tuo nome e poi viene citato il comune se è il il committente di questa iniziativa quindi vengono riconosciuti gli autori che sono sia le persone che hanno scritto e partecipato all'opera sia chi l'ha prodotta o chi è stato parte dell'iniziativa ora questo però mi sembra un tipo di problema diverso cioè l'obiettivo di questo approccio collaborativo è quello sostanzialmente di cercare di ridurre il più possibile le tensioni io posso capire che il comune abbia desiderio di inaugurare che però non ha niente a che vedere con la questione dei diritti è più un desiderio comunque di di far festa e venire riconosciuto magari anche per scopi elettorali non lo so però comunque venire riconosciuto il lavoro che ha fatto e l'iniziativa che ha creato di solito anche nella gestione del diritto d'autore quello che si va a fare è l'analisi del rischio quindi a volte ci sono delle situazioni che sono più critiche di altre per esempio appunto prima citavo quando tu fai un progetto magari vuoi magari adesso stai guardando la documentazione che hai prodotto sai che ci sarà magari una persona con la quale litigherai perché non vuole che il materiale viene utilizzato o reso disponibile oppure invece sai che c'è un volontario collaborativo e quindi magari chiedi a quella persona con cui è più facile negoziare l'autorizzazione quindi l'analisi del rischio è sostanzialmente andare a fare delle scelte che sai che non pestano i piedi a troppe persone o comunque che non creano problemi nel caso di questa situazione magari capire se c'è una data in cui il comune può stabilire appunto l'inaugurazione della segnaletica oppure cominciare nei testi a menzionare che comunque sarà valorizzata in una segnaletica che si prevede di essere inaugurata magari è semplicemente un modo per trovare una soluzione che non è una soluzione legale è una soluzione di collaborazione che è poi l'obiettivo di tutto il modo anche di lavorare sulle licenze libere che almeno questo è un po' lo scopo dei contenuti aperti quindi facilitare un riuso facilitare la disseminazione e facilitare anche il riconoscimento del contributo di ciascuna parte ma i comuni sono disponibili non so hai incontrato dei comuni che accettano volentieri questa licenza libera o hai incontrato per caso delle resistenze che non vogliono avere questa licenza ma quello che sta succedendo in Europa in Italia è l'open government cioè si sta andando in una direzione di apertura dei dati delle pubbliche amministrazioni in modo sistematico ora il problema è che non è semplice aprire i dati delle pubbliche amministrazioni soprattutto per i piccoli comuni se tu sei un comune più grande ed è quello che ha fatto il comune di Milano per esempio la regione Lombardia è molto attiva il Piemonte Trento cioè se uno inizia a guardare poi la mappa dell'Italia trova l'apertura dei dati delle pubbliche amministrazioni in modo molto diffuso però il problema per un comune grande ha dei database ha una gestione dei dati già molto organizzata usa dei software per cui l'apertura dei dati è in parte più facile perché ha già tutto un sistema che poi può essere aperto per un comune più piccolo a volte ha l'orario di apertura dei negozi che in realtà ha un testo su un pdf o è messo sul sito oppure ha dei pezzi di materiale che sono in parte cartace in parte digitale cioè è magari più complicato per cui nella pratica i comuni sono lenti nel rendere disponibile il materiale e adeguarsi all'open government proprio perché è una pratica che è un po' difficile da implementare cioè è un po' difficile da rendere aperta quello che stiamo facendo io collaboro come universitaria perché poi io sono ricercatore all'università svizzera alla SUPSI e dirigo un'area di ricerca che si chiama cultura e territorio quindi stiamo lavorando molto sul tema dei dati anche e abbiamo un progetto Interreg con la regione Lombardia che si chiama Gioconda e in questo progetto Interreg si stanno facendo dei servizi proprio le pubbliche amministrazioni sta cambiando la situazione perché chiaramente quando adesso le pubbliche amministrazioni hanno dovuto fare i loro consigli hanno dovuto fare un consiglio online registrato quindi questo ha prodotto una registrazione quindi dei dati che sono già digitali quindi stiamo andando in una direzione in cui tanti piccoli comuni stanno producendo contenuti digitali stanno usando sempre di più degli strumenti nuovi e producono dei dati digitali quindi probabilmente anche stanno cambiando le cose noi in questo progetto adesso stiamo pensando proprio di lavorare anche lì sui siti internet dei comuni perché anche inserire la licenza sui siti potrebbe essere un passaggio molto semplice che comincia a creare appunto una pratica di apertura dei contenuti e anche di comunicazione di apertura dei contenuti che può essere più facile poi appunto aprire i dati vuol dire per i comuni distinguere i dati che sono sensibili da quelli che invece sono pubblici e questo problema non si pone quando apri i dati di un sito perché se una cosa è su un sito è già aperta diciamo che il tema della pubblica amministrazione è un tema importante scusate se mi sono dilungata ma che so che molti ecumusei poi sono legati alle pubbliche amministrazioni quindi penso che sia un tema comunque connesso e a volte secondo me il problema è proprio mettere in pratica questa apertura dei dati non perché non ci sia una disponibilità o un'adesione bene grazie grazie mille mi sembra che Carlo Barret dell'ecomuseo miniere della Baggia Manasca aveva qualcosa da dire o ho capito male no sono mi sono solo sbagliato volevo solo segnalare la mia presenza ma non volevo intervenire forse non dovevo farlo esattamente in questo modo mi scusi non ho compreso non ho compreso bene io ecco se qualcun altro ha qualche domanda io volevo aggiungere a quello che diceva Yolanda una delle diciamo una delle problematiche che a volte si sente è quella del fatto di lasciare appunto prevedere nella licenza anche l'uso commerciale a scopo commerciale questa cosa chiaramente per l'ente pubblico come dire deve far pensare secondo me non è un problema noi non abbiamo avuto problemi nel momento in cui appunto c'è all'interno di questa operazione un interesse generale quindi anche per dire oltre ad aver rilasciato dati con uso anche di tipo per scopi commerciali abbiamo anche appunto fatto pubblicità tra virgolette a imprese locali a prodotti locali per cui se all'interno di questa operazione c'è un interesse generale a mio parere questa difficoltà che potrebbe scaturire anche da questo tipo di licenza a mio parere viene meno non è ben chiaro per tutti per cui anche quello di promuovere aziende locali dove è l'interesse generale allora dove appunto l'azienda agricola locale ti fa anche ti mantiene un paesaggio che fa parte del tuo patrimonio culturale non so pensate ai prati rigui legati all'allevamento appunto delle mucche da latte o una cosa del genere che valore ha quindi se io faccio pubblicità a queste aziende che sono anche purtroppo anche messe molto male ecco io sicuramente opero nell'interesse generale e non mi pongo assolutamente problemi di fare pubblicità che magari va a beneficio di attenzione anche a questa lo scopo commerciale deve esserci perché dei dati siano realmente aperti cioè non si può prescindere dallo scopo commerciale quindi quando si parla di open data quando si parla di open government deve essere permesso l'uso commerciale ma anche perché una premessa di questo è se dei contenuti o del materiale è stato prodotto con del denaro pubblico questo materiale deve essere pubblico questa è una delle diciamo motivazioni alla base di diciamo contestualizzazione del perché si ritiene che i dati devono essere aperti i contenuti devono essere aperti attenzione poi anche a una cosa paradossale in cui siamo cioè a volte parliamo di contenuti che sono già in pubblico dominio ma che sono chiusi cioè molto spesso parliamo di dati storici di biblioteche archivi centri di documentazione che in teoria per la legge dovrebbero già essere pienamente accessibili ma che per una pratica di conservazione e anche perché uno voleva proteggerli o evitare che venissero distrutti e quindi si è creata questa mentalità di protezione e di cura che è anche una mentalità molto bella si sono tenuti in qualche modo più chiusi possibili nel momento in che questi contenuti sono digitali non si rovinano cioè se li usano più persone se questi contenuti vanno a creare nuove cose se vengono modificati perché tanto io comunque mi tengo la mia versione di base quindi nessuno sciuppa quello che io tra l'altro nessuno tocca gli oggetti quelli fisici per cui anche si conservano meglio per cui il fatto poi di creare più scopi più usi di questo materiale è una pratica nuova che un tempo non c'era quindi la conservazione era prioritaria e che adesso poi crea anche nuove potenzialità C'è qualche domanda ancora? Siamo all'interno della nostra ora che ci siamo che va benissimo secondo me finire in orario è sempre un così saranno degli incontri tutti giovedì belli densi però anche così sapete che insomma è un'ora una finestra per guardare anche un po' dei nuovi progetti potenziali aggiungo anche scusate a questa cosa che stava dicendo Yolanda buongiorno a tutti io sono Marta Rosio di Wikimedia Italia osservo anche in aggiunta a quello che diceva Yolanda che diciamo la leva commerciale a volte è una leva ulteriore che si sottovaluta per la diffusione di contenuti cioè il fatto che un contenuto possa essere utilizzato anche per scopi commerciali ad esempio lo sviluppo di un'app ad esempio della pubblicità può dare una visibilità su piattaforme che altrimenti con degli scopi per esempio puramente didattici non avrebbero potuto essere raggiunte o avrebbero potuto essere raggiunte in modo minore quindi nel momento in cui il nostro intento è dare maggiore diffusione possibile ai contenuti di un'istituzione culturale è anche diciamo tarparsi le ali voler tenere fuori tutta una parte di consistente molto consistente dell'attività umana accenno anche al fatto che Wikimedia Italia che appunto partner di questa iniziativa e Marta Rosio si occupano proprio delle collaborazioni tra istituzioni culturali sapere libero e progetti Wikimedia OpenStreetMap quindi molti dei temi che ho trattato sono poi una delle attività che svolge l'associazione Wikimedia Italia per cui sono presenti anche per dare seguito comunque a questa attività in modo tale che anche gli ecomusei siano parte di questa rete di istituzioni che sta aprendo i contenuti ed è una rete di cui fanno parte delle istituzioni estremamente prestigiose Wikimedia Italia rappresenta queste attività in Italia ma ci sono dal British Museum archivi nazionali statunitensi tantissimi musei nel mondo c'è una collaborazione con ecom giusto per darvi un'idea del grande network poi di istituzioni che stanno andando già in questa direzione ed è bello poi avere comunque una collaborazione con la rete degli ecomusei e la vostra partecipazione per fare in modo appunto che possiate anche beneficiare degli strumenti e del materiale del supporto di Wikimedia Italia diciamo che a livello internazionale molte istituzioni prestigiose stanno anche superando le indicazioni che diamo normalmente che sono quelle che ha dato Yolanda oggi e adottano direttamente la CC0 in modo da dare la massima diffusione possibile senza fare nessuna richiesta quindi valorizzando di più appunto la diffusione del riuso dei propri contenuti rispetto addirittura all'attribuzione e alla condivisione allo stesso modo noi non arriviamo a tanto però diciamo che il mondo anche culturale internazionale si sta muovendo in questa direzione e noi siamo felici di incoraggiare questo spostamento e di farne parte grazie mille è stata la chiusura se posso concludere con un aneddoto c'è una domanda che è credo in chat appena arrivata per quanto riguarda gli archivi privati vuoi allora è una situazione che con gli ecomusei succederà spesso anche magari sono degli archivi che partecipano anche all'attività oppure anche beni sempre tutto quello che si fa deve avere degli accordi quindi l'archivio privato può decidere di collaborare con i progetti adottare una licenza quindi diciamo che fa queste attività da solo oppure può fare un accordo anche con l'ecomuseo in cui mette a disposizione la documentazione per l'ecomuseo accettando il fatto che l'ecomuseo poi rilasci questi contenuti con una licenza libera quindi qualsiasi archivio qualsiasi fonte che sia il mio archivio personale o l'archivio privato di una famiglia o un archivio ufficiale vincolato dalla sovraintendenza quindi qualsiasi materiale può essere rilasciato con licenze libere comunque se si fa un accordo devono essere sempre degli accordi scritti questa è l'unica raccomandazione e poi appunto poi ci sono adesso l'archivio privato vuol dire tante cose nuda proprietà può essere degli archivi che vengono ceduti interamente oppure che restano di proprietà ma che ha non so può essere la raccolta di cartoline di una persona che rende disponibile per l'ecomuseo per esempio e lì si può fare un accordo sull'uso di quel materiale oppure sul fatto che il materiale viene rilasciato proprio con licenza libera però va sempre fatto tutto con un accordo attenzione poi che gli archivi contengono a loro volta del materiale molto eterogeneo per cui se l'archivio ha delle fotografie fatte da altri lì anche va concordato il va concordato la licenza con chi detiene i diritti di quel materiale eterogeneo se si tratta di materiale antico quindi materiale di autori che sono morti da oltre 70 anni non ci sono problemi l'archivio può definire gli accordi come vuole se invece si tratta di una raccolta di tanti materiali facilmente l'archivio può permetterne la visione nella sua sede ma non può non ha i diritti per poter divulgare questo materiale a meno che non stringa degli accordi con gli enti o con le persone questo volevo dire spesso è possibile stringere un accordo con un archivio o con un altro ente che riguarda una parte della collezione magari non per tutto quello che c'è nell'archivio ma una parte della collezione non so la collezione di monete e non la collezione di fotografie può essere messa a disposizione con licenze libere e invece l'altra parte per problematiche appunto legate al diritto d'autore eccetera no ok grazie ero io che avevo fatto questa domanda quindi in pratica se noi abbiamo degli archivi già acquisiti diciamo da tempo e al momento in cui volessimo adeguarci questa nuova modalità dovremmo ricontattare i nostri donatori chiedendogli di condividere cioè di fargli proprio scrivere diciamo una liberatoria questa liberatoria quindi da capo cioè andandoli a ricontattare in che termini siete venuti in possesso di questo archivio cioè l'archivio vi è stato tonato in che modo se è una cessione totale dei diritti e degli utilizzi dell'archivio no potete farlo direttamente voi altrimenti se avete solo la custodia ad esempio sì ok grazie fare un'analisi del vostro materiale e capire però appunto cominciate dalle cose più facili io ribadisco questa regola base cioè cominciate sempre dalle cose facili avrete sempre delle situazioni caotiche e poi non cominciate dalle persone che invece cioè se sono amici persone con quali si lavora bene lavorate con loro chiedete l'autorizzazione se sapete che sarà un inferno che ci saranno complicazioni che sarà un rapporto molto difficile scegliete qualcos'altro questo è importante perché cominciare con tutti i problemi non è una scelta ragionevole si può sempre cominciare con delle sezioni anche non è necessario che tutto il museo su tutto il suo materiale metta questa licenza ma può cominciare con le cose sulle quali può farlo e quindi cominciare anche lì dal semplice benissimo grazie mille credo che sia stato molto interessante quindi rinnovo ancora il ringraziamento a Yolanda Pensa e alle altri collaboratori che ci ci stanno accompagnando in questo argomento così interessante ripeto provare per credere perché davvero è utile seguire questa strada non è solo obbligo è stato una questione di obbligo è proprio quindi la regione Lombardia ha sentito prima gli ecomusei prima di inserire tra i requisiti questo tipo di diciamo di necessità ma perché proprio è stata ritenuta dagli ecomusei Lombardi stessi un'opportunità importante quindi sarà interessante poi sentire proprio nello specifico anche a cominciare dal giovedì prossimo 11 giugno sempre alla stessa ora dalle 14 alle 15 Lorenzo Stucchi che è coordinatore di Open Street Map per la Lombardia che ci farà un'introduzione a questo a questo strumento importante per documentare il patrimonio dell'ecomuseo e per le mappe collaborative molti di noi hanno fatto mappe di comunità qualcuno ha fatto anche come sottoscritto anche dei GIS per poter rendere fruibile questo patrimonio dai pianificatori o da o da altre persone ecco però Open Stream Map ci dà anche la possibilità di appunto di abbracciare queste licenze libere nella diffusione dei dati geografici quindi ringrazio nuovamente tutti e alla prossima settimana con il medesimo link quello giusto che vi ho inviato mi scuso per aver fatto questo lo pasticcio tutto il materiale verrà messo a disposizione quindi la registrazione e anche credo le slide dopo di che saremo disponibili per credo per gli ecomusei ma anche per ci sono referenti anche di altre regioni per gli ecomusei anche appunto a mettere a disposizione il materiale che appunto tramite e grazie alla regione Lombardia abbiamo abbiamo prodotto grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti